Fino a ieri mattina sembrava tornata la tranquillità dopo il blitz dei carabinieri nell'Alto Forno 2 dell'Ilva. Gli operai, ricevute assicurazioni che i 19 colleghi denunciati non avrebbero subito conseguenze di alcun genere e che la produzione deve continuare, sono tornati come sempre ad alternarsi nei turni di fabbrica. Poi ieri sera una nuova doccia fredda per tutti. Il custode giudiziario Barbara Valenzano, su indicazione della procura, intima nuovamente l'immediato spegnimento dell'impianto in attuazione del decreto di sequestro preventivo senza facoltà d'uso. E ancora il custode chiede di essere informata entro il 24 luglio sull'attuazione del cronoprogramma di spegnimento. Come a dire, questa volta si deve spegnere veramente senza indugi. Ovviamente la tensione è tornata alle stelle per i legali dell'Ilva. Si tratta di un altro provvedimento illegittimo che configura il reato di abuso d'ufficio. L'Ilva comunque si riserva di rispondere nelle prossime ore al termine di frenetiche consultazioni già avviate con il governo. Intanto pare che per domani, mercoledì, i magistrati inquirenti di Taranto siano stati convocati a Lecce dal procuratore generale.